Buonasera Silvano Potrosino, io sono il bello del trio, è inutile dirlo, vi ringrazio, non ci avevano avvisato ma io che sono un freddoloso, mi sono portato il piumino che Silvano ti presterò nel caso sei giovane, grazie, mi ha già dato dell'anziano sono portato anche delle tachipirine, tra 5 minuti le daremo, la febbre all'ingresso non c'era, no scusami Silvano sto prendendo tempo perché in realtà mi sto cagando sotto perché non lo so, questo editorino spiritualità è già la seconda volta che mi invitano, io fin dalla prima volta avevo detto ma guardate che io non centro nulla, loro hanno insistito in particolare quel signore lì è colpa sua e vabbè però alla fine mi sono tranquillizzato perché dirò una serie di difesserie eccetera, meno male che c'è Silvano Petrosino che ci coagulerà e darà senso a questa serata perché insomma ho anche scritto delle cose, ho scritto delle cose, non so se hanno senso però aspetta, è che se mollo il microfono qui, no perché parlare del parlare del respiro è una roba, c'è un argomento, cioè se non sei un pneumologo o un filosofo è difficile, è vero che adesso in questo periodo qua sono un po' tutti virologi pneumologi, tutti sanno tutti, ma in realtà è un argomento che spaventa perché chi è che ci pensa al respiro? Il respiro è un atto involontario del corpo, non ci pensi mai, io voi adesso state facendo quelle faccette lì come per dire no, il respiro è importante però fino a quando non si inceppe il respiro non ci pensi mai, ci pensa lui voglio dire, fa tutto lui, un po' come il cuore, ci pensa lui, fino a che non si rovina qualche cosa sono degli organi che vanno avanti da soli e tu proprio non ci devi pensare e io come tutti quanti voi non ci ho mai pensato al respiro, non ci ho mai pensato, ci sono stati due passaggi nella mia vita che mi hanno obbligato a pensare al respiro. La prima volta quando sono andato a lavorare in ospedale, voi non ci crederete ma io ho un patrimonio, prima di fare il salto in banco che ho fatto al metalmeccanico e sono stato anche in ospedale per 11 anni, ho fatto l'infermiere e all'inizio facevo l'uomo delle pulizie, cosiddetto ausiliario, non lo sai, non ti preoccupi, ma quando, siccome gli infermieri mancano sempre, allora come adesso, sono sempre mancati gli infermieri, allora cosa succedeva ed è successo anche a me, che a un certo punto io ero stato assunto come uomo delle pulizie, ma a un certo punto quello dell'ufficio del personale dice, signor Poretti se non ha niente in contrario, dal prossimo mese troverà nella busta paga 35.000 lire al mese in più, c'erano ancora le lire, anni 70-80, e dico, ah beh bene, vi ringrazio, ma come mai? Però cambierà anche la mansione, dal mese prossimo lei sarà infermiere generico facenti funzioni, e ride, ha intuito bene, perché la storia delle facenti funzioni è un po' come la storia dei condoni, no? Cioè che va a sanare qualche cosa di irregolare, nel mio caso che non avevo nessun diploma, non avevo studiato, però qualcuno si deve occupare dei malati, qualcuno li deve lavare, qualcuno deve fare, e siccome mancano sempre, allora, no? E quindi no, ho fatto questa premessa per dire che da allora facendo l'infermiere generico facenti funzioni, in attesa di fare una scuola, eccetera, cominci, frequenti gli infermieri, quelli veri, quelli professionali, frequenti i medici, e quindi senti certe parole, cominci a parlare di spnea, tachipnea, bradipnea, no? Sapete bene cosa vuol dire, no? Sono tutti dispnoici, tutti dispnoici, tutti col ventolino in tasca, no? No, perché poi, ecco lì, allora dici, cominci a occuparti delle malattie, delle cose, eh? E intanto scopri la cosa più importante, che non avevo mai saputo. Ma perché è importante il respiro? Beh, voi dite, vabbè, che banalità, perché se non respiri muori. Ma perché? Cioè, sapete cosa succede, no? Nell'atto del respiro? Non sanno un cazzo, Silvano, questo è qui, ci ha mandato tutti i ripetenti, io pensavo di trovare qui un... Cioè, inspirando, si tira dentro l'aria, e l'aria è composta da... Oh bravo, e adesso fa l'ossigeno, però poteva dirlo prima, però, eh? L'ossigeno, e perché è importante l'ossigeno? Tutti idraulici, falegnani, l'ossigeno è importante, no ma è importante questa cosa, poi forse mi ringrazierete, è importante perché se tu porti dentro l'ossigeno, l'ossigeno entra in tutte le attività del corpo, eh? È l'energia del corpo senza l'ossigeno, quindi... Tu lo tiri dentro, poi succede... Dente, stia per tutto, eccetera, eccetera, poi lo scarto... Lo butti fuori, no? Questi due atti semplicissimi, ispirazione, ispirazione, no? E questo... Ah, ecco, il respiro è importante per questa roba qua, perché se non porti dentro l'ossigeno praticamente saremmo morti, perché nessuna attività cellulare funzionerebbe senza l'apporto dell'ossigeno. Quindi, questa cosa... Però, è qua facendo l'infermiere, quindi... Ah, che bello, è importante, vedi che è importante studiare, no? Vedere le cose. Poi, quindi pensavo che il respiro fosse solo una questione... È il freddo che mi fa... Sera parlare così, eh? Fosse solo importante dal punto di vista fisiologico. Poi, qualche anno dopo che ho frequentato una scuola per attori, per fare il lavoro che poi è andato a fare, una delle prime cose che mi dicevano, che mi hanno detto gli insegnanti, che era... Per fare bene l'attore bisogna respirare bene. Cazzo, sta dicendo? Perché? Perché devi respirare bene per fare l'attore? E anche lì ho imparato una cosa banalissima, ma semplicissima, che... Le parole escono solo se espiri. Ci avete mai pensato? Le parole, i suoni, escono solo se... Tu non riesci a parlare se... Se vuoi tirar dentro la... Ce la fai, capito? Fare tutto così. E quindi ho scoperto una cosa importante, che il respiro, usare il respiro, modulare il respiro, serve a modulare l'emissione del suono delle parole. Estraordinario, bellissimo. E poi, le prime tecniche che si imparano lì a scuola d'attore, no? È il riso e il pianto. Voi lo sapete, perché alla fine vi prendo in giro, ma ho già capito che siete tutti degli esperti di fisiopneumologia, no? Voi lo sapete, è inutile che lo dica a voi, che il riso, così come il pianto, non sono nient'altro che dei ripetuti gesti di espirazione, rapidi, o prolungati, o straziati. Giusto o no? Adesso vi metto la prova. Lei. È lei che è congelata, pure io sono congelato, sa? Allora, facciamo una cosa. Questo è un esperimento che si fa ai primissimi giorni, primissime settimane di quando si fa una scuola di teatro. Lei mi deve dire, adesso mi giro perché se no lo capisce, perché questa cosa qua si può capire solo guardando gli occhi o il volto, ma l'emissione del suono e il comportamento del corpo è identico. Lei mi deve dire se sto ridendo o piangendo. è identico, è identico. Se ci pensa, è identico. È solo nel sorriso. Oppure... È uguale, il meccanismo è uguale. Quindi banalmente dopo la seconda, terza lezione di scuola di teatro è stato ribadito questo concetto che il respiro è importante perché non solo ti tiene in vita, ma ti modula il linguaggio e anche i sentimenti più importanti. quindi insomma una cosa abbastanza curiosa, una cosa che uno dice Teva, non ci avevo mai pensato, io respiro una cosa così involontaria che uno non ci pensa mai e invece, no? Adesso fate un applauso, bevo e giro il foglio. Sempre bello aspettare la spontaneità, vero? Poi non c'è bisogno di chiederla qua. Eccola qua, che bello. Quindi però il respiro non è che è importante solo per gli attori. Respirare bene, come dice il maestro di teatro, è importante non solo per l'attore, ma è importante per tutti, anche per l'idraulico, l'imbianchino, l'insegnante, tutto qua, tutti quanti sono e se ci si ferma un attimo si capisce quanto sia importante questa cosa qua. Però c'è modo e modo di respirare. Eh sì. Voi pensate che ci sia un solo modo di respirare, ma ce ne sono tanti. Come vi dicevo, a teatro c'è questa cosa qua, c'è questa differenza enorme, intanto che parli solo ispirando. Sembra una cosa banale, ma è così. Poi a teatro ti dicono, ti insegnano tre cose, che ci sono tre tipi di respiri che l'attore deve fare. Uno solo è importante, quello col diaframma. anche i maschi, tu dici, no? Certo, anche i maschi, no? Perché i maschi in particolare non sanno respirare col diaframma. Non vi voglio tediare, ma arrivo al dunque. È importante respirare col diaframma perché c'è tutto un esercizio che dura per dei mesi, dei mesi, ma i maschi sono ostinati fino a quando riescono ad abbassare sto diaframma per far posto all'aria che entra e una volta che tu ci riesci, è complicatissimo, ve lo dico, ma poi riesci banalmente a trattenere molta aria, ma se sei bravo con l'esercizio riesci a modulare le parole e a intensificare il tono, il volume, tutto quanto. Quindi è importante quella cosa lì, bisogna farla bene, bisogna respirare il diaframma per fare l'attore. E assolutamente ti dicono non ingolarti la voce, non parlare qua e soprattutto non parlare di testa, no? Cioè, chi fa queste cose qua vuol dire che non usa il diaframma. Vabbè, ma adesso non voglio annoiarvi, ma sul respiro, sui tipi di respiro, tornando indietro in ospedale ci sarebbero delle cose interessantissime, ci sarebbero dei... Sapete che c'è il respiro di Falstaff anche, non sapete, chiaro, siete gli ignoranti, come fate a saperlo? Il respiro di Falstaff perché sono quei respiri che solitamente grassi o non grassi quasi tutti i maschi hanno quando vanno a dormire di notte, che russa, Lei non russa, vero? No, no, io nemmeno, no? Professore, figuriamoci, no? E che hai quelle... Orca miseria, la cosa più importante è volata via. Vabbè, la bottiglia, vedi che le bottiglie sono importanti. Insomma, ci sono tanti respiri, ci sono il respiro di Falstaff e il respiro di chi praticamente sostanzialmente mangia troppo, si ingozza alla fine e ha queste apnee notturne, no? Di Falstaff perché appunto il riferimento è a Shakespeare e lo dipingeva così quel personaggio diciamo pingue, no? ce ne sono tanti ma non voglio intristirvi perché c'è poi c'è il respiro di Kuzma Hull poi c'è poi c'è il gasping non so se qualcuno qua lavora in ospedale ma che lavori fate? Scusate. Quando in ospedale vi dicono spero che non lo sentiate mai che un infermiere un medico diranno Emma il suo parente il suo coso è ingasping vuol dire che siamo alla fine è una specie di no, non è una specie è un respiro o un finto respiro dove sostanzialmente l'aria ne entra ne esce ma è solo il movimento della bocca. C'è modo e modo di respirare insomma questo è vi ho raccontato in due parole il modo in cui sono venuto a conoscenza del respiro no e poi ovviamente per concludere visto che nel titolo ci hanno ficcato anche il riso va bene no e visto che il momento è particolare lo conoscete mi sono permesso con un certo qual timore per la presenza del professore di comporre una specie di non lo so di che cosa non so come chiamarlo una riflessione sul sul respiro soprattutto in questi tempi c'è modo e modo di entrare nelle nostre case il virus si è presentato sul nostro pianerottolo senza essere invitato non si è scoraggiato di fronte alla porta blindata e l'allarme inserito non ha bussato non ha suonato il campanello ma paziente ha atteso che qualcuno abbassasse la maniglia e silenzioso e felpato proprio come un gatto è scivolato non visto tra le gambe si è accucciato in anticamera sotto la cassettiere e lì si è riposato ha dormito qualche giorno ha girovagato per le stanze e i corridoi mentre noi andavamo in ufficio e a scuola ha curiosato tra i libri si è soffermato davanti alle foto ha giocato tra le setole dello spazzolino poi si è ricordato che era in missione che era in servizio e non era in vacanza si è adagiato ai piedi del letto di fianco al gatto e una notte mentre russavamo forse è entrato attraverso la porta principale la bocca o forse dalla porta di servizio il naso non si sa non è dato sapersi ed è rimasto lì immobile per qualche giorno a studiare l'ambiente ha scrutato le pareti della faringe ci ha mangiato ha buttato rifiuti ha fatto i suoi bisogni in un angolo vicino alle corde vocali poi con l'arroganza di un intruso ha sceso le scale della trachea e furtivo è entrato nell'anticamera dei bronchi si è fermato di nuovo per fiutare il grande colpo e in punta di piedi giusto un colpo di tosse è entrato nella nostra stanza più intima nella cassaforte della vita nel nostro tabernacolo per arrivare fino a lì ha dovuto scavalcare balconi è saltato nel vuoto ha eluso la sorveglianza di globuli bianchi impreparati è passato davanti ai fagociti e non lo hanno riconosciuto e quando si è presentato davanti alla porta che dà sui polmoni era invisibile ai globuli bianchi che vi montavano di guardia i linfociti soldati scelti i natural killers i marines del nostro sistema immunitario i linfociti non hanno potuto nulla è entrato nella stanza del respiro e lì ha scatenato il suo istinto di terrore è stato triste come caporetto infamante come pierre larbour umiliante come waterloo chi è stato male in quei giorni era concentrato sul suo respiro la tv diceva che bisognava prestare attenzione al respiro i medici interpellati per la febbre chiedevano ansiosi e il respiro chi aveva la febbre per giorni e giorni ascoltava il suo respiro con angoscia siamo un soffio la vita è un soffio la sostanza dei nostri corpi e dei nostri pensieri è fatta di aria l'aria sì l'aria è la forma della nostra coscienza c'è modo e modo di entrare nelle nostre case e allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente da allora quando l'uomo parla della vita del mistero che lo abita nomina l'aria il vento il soffio il segreto della vita dentro l'impalpabile respiro il miracolo della coscienza lo sconcerto della materia che è consapevole di se stessa la sua formula segreta è nell'aria un tempo eravamo nulla niente e un respiro ci ha evocati ci ha chiamati un'espirazione un soffio ci ha resi coscienti l'uomo ha ricevuto il suo unico grande regalo sotto forma d'aria tutte le tradizioni parlano dell'aria come del vestito del divino sì ma c'è modo e modo per uscire dalle nostre case dopo aver distrutto le papille olfattive ubriacate quelle del gusto dopo aver fatto uno sceno happy hour nelle nostre gole dopo aver incendiato il nostro corpo per settimane dopo aver spaccato le vetrine dei nostri alveoli dopo aver rovesciato il sangue dove molti di noi ci sono annegati dopo tutto questo scempio se n'è andato forse in un altro corpo sì ma c'è modo e modo per uscire dal nostro corpo si udì una voce dal cielo che disse a Mosè Mosè è la fine il tempo della tua morte è venuto Mosè disse a Dio ti supplico non mi abbandonare nelle mani dell'angelo della morte ma Dio scese dall'alto dei cieli per prendere l'anima di Mosè e gli disse Mosè chiudi gli occhi e Mosè li chiuse poi disse posa le mani sul petto e Mosè così fece poi disse adesso accosta i piedi e Mosè li accostò allora Dio chiamò l'anima di Mosè dicendole figlia mia ho fissato un tempo di centoventi anni durante il quale tu abitassi nel corpo di Mosè ora è giunta la tua fine parti non tardare e l'anima re del mondo io amo il corpo puro e santo di Mosè e non voglio lasciarlo allora Dio baciò Mosè e prese la sua anima con un bacio della sua bocca poi Dio pianse per la morte di Mosè quest'ultimo brano non è farina del mio sacco ma è uno dei midrash più belli che si possono leggere e ascoltare scusa Silvano no grazie sono anche onorato di essere qua certo il tema del respiro in questo periodo adesso non so quando è stato deciso di solito si decide un anno prima l'argomento però è venuto è caduto giusto perché quello che abbiamo vissuto appunto l'esperienza che alcuni hanno vissuto personalmente ma che è stata quella proprio del venir meno del respiro di una difficoltà a respirare e del venir meno del respiro e quindi come appunto diceva Giacomo in modo perfetto qualcosa di assolutamente naturale di cui tu non te ne accorgi ma che è un certo momento tu ne senti la mancanza questo affanno questo affanno questo non riuscire a respirare e quindi il non riuscire a fare tutta una serie di cose perché è chiaro nel momento in cui uno non riesce a respirare non riesci tanto a pensare non riesci a gioire non riesci a godere non riesci a sorridere in questo senso il legame c'è laddove manca il respiro non riesci a sorridere e quindi su questo insomma è già stato detto ma ci sarebbe molto da dire però pensando quando appunto sono stato invitato poi uno si mette a pensare pensavo che però questa idea di affanno o di mancanza di respiro o di apnea non è solo relativo all'epidemia che c'è stata ma è relativo adesso qui allargo un po' il discorso a un nostro modo di vivere oggi nel primo mondo il nostro mondo perché poi c'è un secondo un terzo un quarto mondo un mondo che è fatto la nostra vita normale quotidiana diciamo la verità se ne parlavo prima arrivi a casa che sei stravolto arrivi a casa che sei stravolto hai da fare una marea di cose della vita nella quotidianità se hai bambini devi portare di lì devi portare di là devi fare la spesa devi lavorare e questa cosa è venuta in mente appunto durante una cosa che uno appunto ha detto sì al di fuori dell'epidemia ha detto sì noi viviamo come in apnea ed è giusto noi viviamo come in apnea la nostra ideologia quella in cui noi viviamo che è l'ideologia dell'eccellenza per me è una delle parole più oscene che circolano ma che è anche l'ideologia a proposito del tempo l'ideologia dell'urgenza è sempre tutto urgente al lavoro tutti ti chiedono una cosa che tu avresti dovuta farla già il giorno prima ti telefonano e ti dicono mi può rispondere subito noi mandiamo una mail all'altro e dopo cinque minuti gli mandiamo un'altra mail dicendo ma perché non hai risposto pensando che l'altro è lì a disposizione come se l'altro non avesse la sua vita le sue preoccupazioni ma noi diciamo ma come ti ho mandato una mail cinque giorni fa cinque minuti fa e tu non mi rispondi ma che pretesa abbiamo noi questa idolatria del del presente del tempo reale e dell'urgenza ti rende la vita impossibile ti rende la vita in apnea in apnea non ce la si fa diciamolo tranquillamente non è che siamo carenti di qualcosa è impossibile vivere così il nostro stile di vita del primo mondo in una grande città una nostra quella che facciamo qui diciamo la verità è impossibile ed è per questo che come sappiamo tutti non abbiamo bisogno dei medici nascono disturbi mentali le isterie l'acidità di stomaco c'è molta patologia c'è molta malattia anche se non è per fortuna non è sempre quella della dell'epidemia allora stavo pensando non so perché pensando a questa cosa del noi viviamo in apnea sotto la dittatura dell'urgenza secondo il mito dell'eccellenza cose da matti per cui le cose vanno fatte subito per questo dico che l'espressione interessante è tempo reale che non esiste mi permette una piccolissima deviazione quando la pubblicità dice life is now dice una verità soltanto che l'umano non è la vita il tempo dell'uomo non è mai l'ora non è mai l'adesso non è mai il subito non è mai il per sempre il tempo dell'uomo ha un nome grandioso si chiama storia e la storia è fatta da che cosa la storia è fatta da memoria da speranza da pazienza da momenti di arresto da passi indietro è bello quando si dice noi poi a volte non pensiamo le parole quando si dice sai tra loro due c'è una storia che è molto più interessante del dire sai loro due vanno a letto insieme ma loro due vanno a letto insieme e niente tra loro c'è una storia e la storia è questo tempo che si ferma che aspetta che rinuncia che sbaglia che ritorna indietro che fa degli slanci in avanti appunto ma noi in questo momento non siamo più abituati a questa cosa io l'altro giorno sentivo in televisione un adulto che diceva che ormai dobbiamo prendere coscienza che la pazienza e la sopportazione non sono delle virtù sono dei vizi interessante come può un adulto dire che la pazienza e la sopportazione è un vizio in base a quale delirio uno dice perché tu appena hai un bambino un figlio lo sai che il tempo non è più il tuo tempo e il tempo devi aspettare non sai cosa fare non sai cosa fare e questo qui dice era una psicolo un psicologo che appunto noi dobbiamo ormai noi no in tempo reale dove tu trovi tutto sempre sulla rete in cui qui in là là sopra non la pazienza ma questo ritmo ci fa andare in apnea non ce la facciamo e non solo perché abbiamo mangiato tanto soprattutto perché abbiamo mangiato male perché abbiamo fatto male l'amore perché non abbiamo letto bene perché non abbiamo ascoltato musica buona perché non abbiamo guardato il cielo e tutto questo ti rende perché certo tu devi andare quando dico sempre a volte a lezione dico ai ragazzi dico ma avete visto il cielo stamattina alcuni io li vedo alla faccia ma sei scemo devo prendere l'auto devo prendere la cosa il treno parte io mi metto a guardare il cielo mi metto a guardare il cielo è impossibile devo andare noi non ci accorgiamo che nostra moglie è andata dal parrucchiere capite? ricordo una volta mi permetto un raccontino e poi dopo leggo una cosa meravigliosa che ho portato che non è una volta ascolto due bellissimo al mare ascolto due signore che parlano parlano tra di loro e una dice sai l'altra sera gli ho fatto già questo e io capito stavo leggendo ma ho smesso cioè no ho fatto finta di continuare a leggere ma intanto prendevo appunti allora perché ho detto qui il signore mi manda un master gratuito concentrato allora dice sai gli ho fatto lo sformato di fagiolini l'altra ah sì e come hai fatto e dice ho preso l'enciclopedia già questo cioè chi sa un po' di cucina sa che lo sformato di fagiolini ci vogliono circa dai 20 ai 22 anni di pratica perché sennò si affloscia insomma adesso non entro nei particolari ma lo sformato di fagiolini e questa donna dice ho preso l'enciclopedia e poi sono andata a comprare i fagiolini ci vogliono quelli sottili è un piatto ligure e dice così e poi no sai è venuto bene ho impiegato tutto il pomeriggio è venuto bene ah e poi lui è arrivato e lui vuol dire è il mostro no e dopo un po' è vero dopo un po' ho detto com'è che è una dichiarazione di fallimento è la dichiarazione del ho fallito e lui ha detto siete pronti meraviglioso è un master questo e lui ha detto buona questa frittata di verdure io volevo abbracciare la signora e dire signora resista continui perché vedrà che alla fine anche lui che è un uomo alla fine capirà ci vuole un po' di tempo perché siamo un po' non a lungo ma ce la farà anche lui d'altra parte però mentre cercavo di consolare almeno la signora pensavo però magari sono più serio quello lì magari ha litigato in ufficio ha incontrato un traffico è stato umiliato da qualcuno e non ha tempo c'è questo famoso raccontino in gente di Dublino se vi ricordate rivalsa di questo uomo che viene preso in giro e torna a casa e picchia i figli noi siamo così cioè tu siamo presi figuriamoci uno lavora va di là va di là figuriamoci si ha tempo di apprezzare si ha tempo di riconoscere e di apprezzare quello sformato semplicemente si nutre ha fame mangia siamo tutti così non solo l'uomo la donna la cosa il marito la moglie tutti così ne accorgiamo forse del collega che ha dei problemi è la vita è la vita però ci sono delle situazioni in cui questa apnea si manifesta in modo come dire è un'epifania per ritornare a Joyce un'epifania si manifesta l'apnea dove nelle riunioni dove ti manca il respiro non solo quelle di condominio nei consigli di facoltà nelle riunioni di qui nelle riunioni di là è una cosa da pazzi dove appunto tu fai l'esperienza di questo respiro per cui tu dici non può essere così non può essere così non si può vivere così bisogna uscire prendere una boccata d'aria mi è venuto in mente mentre pensavo un po' a questa cosa se c'era qualcuno che potesse dire meglio di me di come queste cose mi è venuto in mente poi vi leggo e poi ho finito vi leggo un pezzetto ma a questi livelli di un testo impossibile spero che non scandalizzi nessuno che è il testo di di Selin Bagatelle per un massacro voi sapete che è un testo molto duro pieno di antisemitismo e via dicendo però a mio avviso senza entrare in merito a questa cosa Selin è un gigante e non penso solo a mio avviso e questa pagina è meravigliosa lui sta descrivendo questo fatto sta descrivendo che va a lavoro va a lavoro in una in una società di relazioni internazionali e il presidente il segretario gli spiega come bisogna fare le riunioni e che cosa sono le riunioni quindi il segretario che è tanti anni che fa il segretario illustra a Ferdinand Selin cosa come sono queste riunioni e dice così dopo circa un'ora di sfrenati gracchiamenti sta descrivendo una riunione di i delegati sono tutti contro tutti e non sanno più nemmeno dove si trovano hanno perso la bussola il senso dell'orientamento delle dimensioni non sanno più di che cosa si tratta la questione è nelle nuvole tra gli urli isingulti nel fumo trafelati sfiniti devastati spompati crollano una sorta di angoscia li stringe non sanno più come finire si aggrappano alla tavola dal modo che li sento come respirano rauchi dalla maniera che si inceppano che vanno avanti a colpi dai frammenti di insulti che arrivano da ogni lato mi dico è il momento è l'istante preciso per intervenire non un secondo dopo non un secondo prima deve cadere a pennello scattare il momento giusto perfetto allora lui è il segretario allora organizzo l'estasi Ferdinand è a questo punto che soffocano dopo un'ora di pancrazio di elaborazione di parole inutili ecco io conosco il modo di farli godere offro a tutto questo blatterio una specie di iaculazione ce l'ho sempre qui in tasca lo vedi su un bigliettino al momento in cui non ne possono più in cui si strangolano di confusione in cui implorono un po' d'aria ecco in quel momento tiro fuori il mio piccolo testo dispiego il mio pezzettino di carta con sopra scritto una risoluzione la faccio scivolare al presidente il mister bla 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 della banda il più intronato di tutti si getta sopra la branca finalmente qualcosa è scritto deve solo leggere sillabare è fatta sentendo quel testo così chiaro che arriva loro per miracolo che chiude così bene la loro discussione finalmente gli altri tirano il respiro si arrendono lo adottano con gioia iaculano a gara è l'orgasmo la vanità fa tutto il resto sto finendo è è il punto della decisione è l'ordine in fondo al caos porto la loro liberazione Ferdinand tutti quei piccoli verbosi storditi prolissi stravolti finalmente toccano il piacere tutti insieme e non ho detto niente c'è da scolo scritto una risoluzione vedi questa è una regola un teorema una legge dello spirito lo spirito non ama le riunioni meraviglioso io questa frase me la sono segnata in testa e ho detto le ho detto lo spirito non ama le riunioni no interessante questa cosa perché la qui si potrebbe andare avanti molto la riunione che è uno dei momenti importanti dell'essere umano tra gli uomini il riunirsi ma la riunione può prendere e purtroppo il più delle volte prende l'aspetto della comunanza non della comunità non di una comunità e nella comunanza ci si chiude si muore si resta appunto dalla comunanza bisogna uscire bisogna prendere una boccata d'aria ma spesso tra di noi c'è solo comunanza e in una comunanza nelle riunioni lo spirito perché spirito vuol dire aria non circola e qui mi permetto solo l'unico riferimento l'unico riferimento filosofico quando Heidegger un gigante dice questa cosa semplicissima come tutti i grandi che dicono le cose semplici che il tratto peculiare dell'uomo è l'apertura l'uomo è l'aperto è colui che si apre che si apre si apre tal punto da persi all'inaspettato all'insolito all'imprevedibile l'uomo è l'aperto e continuamente però questo è una l'uomo è l'aperto e in questo senso è un essere spirituale è spirituale perché respira perché si apre per esempio si apre al di là del proprio godimento il godimento è certamente una cosa essenziale della vita life is now il tempo del godimento è l'ora l'adesso ma l'uomo è talmente aperto che vale è capace di andare al di là del proprio godimento una cosa da matti ma continuamente è come se noi fossimo incapaci incapaci di questa apertura e continuamente tendiamo a rinchiuderci a chiuderci è il tema dell'apnea continuiamo continuamente a no a tentare di chiudere di trasformare la comunità in una comunanza ma in una comunanza si muore si muore come uomini lo spirito non ama le riunioni lo spirito ha bisogno di spazio ha bisogno del tuo spazio noi siamo esseri spirituali bisogna fare spazio è la differenza interessantissima tra il silenzio e il mutismo il silenzio è il fare il spazio non è semplicemente il fatto che tu non parli è il fare spazio questo è difficilissimo e noi tendiamo tendiamo a chiudere tendiamo continuamente a chiudere dico l'ultima cosa perché è venuto in mente rispetto a un tema perché il tema dell'aprire e del chiudere è il tema del vivere normale no è il tema del vivere normale uno può dove vivere in un appartamento laddove si apparta o vive in una casa la casa è l'aperto la casa per esempio non è una tana Kafka la tana è il chiuso e quel racconto di Kafka è stratosferico per questa ragione perché pian piano la tana si trasforma in una trappola ma la casa quando è una casa è qualcosa che si racchiude intorno ad un aperto no veniva in mente questa cosa perché adesso ho finito davvero era la questione appunto a un certo momento non vi sto a dire perché era il parlare sul tema del monastero la clausura uno dice la chiusura e ma tutto il tema della clausura è che la clausura è il raccogliersi intorno ad una apertura questo è il punto è il punto essenziale perché se no si trasforma in una trappola è il raccogliersi intorno ad un'apertura è il far continuamente memoria di questa apertura perché nel momento in cui appunto la clausura si chiude su se stessa lì l'uomo muore perché l'uomo ha bisogno di respiro ha bisogno di aria ecco questo è molto interessante perché appunto il continuo movimento tra questa apertura e questa chiusura definisce definisce il modo d'essere dell'uomo che non può vivere all'aperto ma non può vivere nel chiuso forse la definizione di casa è esattamente questo è ciò che si raccoglie intorno ad un'apertura quindi in questo senso la casa è l'opposto dell'appartamento dove tutti apparti in realtà la casa è il tema dell'ospitalità dove si tiene l'ospitalità ad un'apertura ecco mi sembra interessante questa tematica dove appunto lo spirito non ama le riunioni formidabile non ama queste chiusure va bene grazie grazie Silvano staremmo ad ascoltarti per delle ore ma la signora sta andando che c'è la pleurite adesso ci appartiamo anche noi ma è necessario appartarsi quando fa freddo scusa quindi vi ringraziamo vi salutiamo e speriamo di rivederci tra non lo so quando l'anno prossimo si parlerà di caldo forse il caldo e lo spirito grazie a tutti Silvano Petrosino grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti